La FLG non è l'ennesima sigla sindacale che può comparire sul panorama della nostra Italia, non si occupa di contratti di lavoro, questo ve lo dico subito, è la Fondazione Luigi Guccione che si occupa di sicurezza stradale, si occupa di mettere in evidenza quelle che sono le problematiche, quelli che sono i disagi che può vivere qualunque cittadino quando si parla di sicurezza stradale, guardate bene, sicurezza stradale intesa per chi guida una bicicletta, per chi guida una vettura, per chi guida un mezzo pesante e semplicemente per chi cerca di attraversare la strada in città. L'ospite di questa sera è Giuseppe Guccione che è fondatore di questa nobile causa, nata per ricordare la memoria di suo fratello, morto in un incidente stradale. Che importanza ha sapere che si combatte per difendere un diritto che non è stato riconosciuto Giuseppe Guccione? Sì, sono 15 anni che ci battiamo e dal 97 quando morì Luigi, che ci battiamo in Italia per ripristinare la legalità sulla strada. Noi facciamo parte della Federazione Europea delle vittime della strada, dell'alleanza globale che siede all'ONU e all'OMS insieme a 87 ONG di tutto il mondo e l'Italia è uno dei paesi più arretrati in Europa. Sui 15 maggiori paesi noi abbiamo chiuso il decennio 2001-2010 al decimo posto su 15 paesi. È vero che abbiamo diminuito del 42,4% la mortalità, non abbiamo raggiunto l'obiettivo europeo che era del 50, ma questo è avvenuto del tutto casualmente. Manca in Italia un qualsiasi organo di governance tecnico-politico della sicurezza stradale. Si immagini un ospedale non gestito da una direzione sanitaria che tutti i giorni pensa ad organizzare i servizi. Qui non c'è nessun organo di governance. Abbiamo avviato una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata alla Camera, poi decaduta perché la legislatura si è interrotta, perché questi sono i tempi della politica, mancano visione strategica, si guarda il giorno dopo alle elezioni. Il nostro paese è uno dei paesi più arretrati nei 15 paesi più sviluppati dell'Unione Europea. I governi che si sono succeduti, da quelli di centro-destra al centro-sinistra, abbiamo fatto sempre sottoscritto accordi con Prodi prima, con Berlusconi dopo, hanno completamente disatteso gli accordi programmatici sottoscritti. Va un po' meglio nel sistema locale, ma le amministrazioni non sono tutte uguali, ovviamente. Molte di queste, anche queste non hanno organi di governance tecnico-politici, si affidano a consulenti esterni che vengono foraggiati di continuo per avanzare proposte e progetti che restano spesso sulla carta. Prendiamo l'Umbria, perché oggi siamo qui in Umbria, ad annunciare la presentazione di un dossier sulla sicurezza stradale che presenteremo insieme alla nostra rete legale a partire da settembre in tutte e venti le regioni. Ma abbiamo voluto scegliere l'Umbria, perché l'Umbria è una delle regioni, una dei territori che rimane indietro anche rispetto alla media regionale. Infatti in Umbria il decennio si è chiuso con una diminuzione del 32,5% dei morti, quindi 10% in meno della media nazionale. E l'indice di mortalità, che è un indice importante, in Umbria è del 2,7, mentre in Italia è dell'1,9, cioè si muore molto di più in Umbria che rispetto alla media nazionale. E l'indice di mortalità rispetto a ogni 100.000 abitanti in Italia ne muoiono 6,8, in Umbria ne muoiono 8,7. Più di due cittadini Umbri in più ogni 100.000 abitanti muoiono rispetto alla media nazionale. Cosa si fa però in Umbria? In regione non c'è una struttura tecnico-politica, è vero, hanno costituito dopo due anni che noi abbiamo indicato alla regione una consulta regionale, dovrebbero approntare il centro di monitoraggio che è lo strumento poi per monitorare l'efficacia delle scelte che vengono compiute, ma ancora questo sistema non ha un governo certo a tutt'oggi, noi lo spieghiamo che in futuro lo sia. E vorremmo fare delle proposte alla regione Umbria e al sistema amministrativo regionale di comune e province. E mi chiedo, vogliamo fare qualcosa per le vittime della strada? In concreto parlo, non con la propaganda. Che cosa si può fare in concreto per le vittime? Perché manca, in tutta Italia, non in Umbria. Però perché in Umbria non si mette questa medaglietta al petto, dando una risposta concreta alle vittime? E di dire cominciamo noi. E cominciamo noi, diamo noi quest'esempio. Noi a settembre daremo gratuitamente alla regione Umbria una proposta di legge regionale per l'assistenza alle vittime della strada. Sei articoli secchi in cui si danno delle indicazioni, da un punto di vista legislativo, per fare assistenza alle vittime. Come? Dal 1982 esiste una legge delle assicurazioni che prevede su un emendamento dell'allora deputata Rossana Rossanda, che fece inserire con questo emendamento una norma, e cioè che il 10,50% dell'RC Auto, che lei, io, ma tutti i cittadini umbri che hanno automobili, autoveicoli, motocicli, paghiamo tutti gli anni al sistema sanitario nazionale, il 10,50% che a livello nazionale significa 2 miliardi di euro che ogni anno vanno alle casse del Ministero dell'Economia e Finanza e per esse poi alle regioni e quindi alla regione Umbria, che non hanno mai rendicontato questi fondi che arrivano e come vengono reimpiegati, così come prevede la stessa legge, si utilizzino quei fondi per aprire i centri di assistenza alle vittime della strada. Mi sembra questo un argomento forte, concreto, che un'amministrazione potrebbe dare non solo alle organizzazioni delle vittime, ma alle vittime sopravvissute e ai familiari delle vittime sopravvissute e decedute. Questa è la prima questione. La seconda, insieme alla consulta regionale, e qui mi permetta un inciso, noi pensiamo che le consulte che sono il luogo di partecipazione delle organizzazioni economico-sociali, non solo delle vittime ovviamente, ma di tutte le organizzazioni economico-sociali, da quella nazionale a quella regionale, ne esistono tre purtroppo ancora in Italia, non tante, le consulte, essendo consulte e quindi che forniscono un parere consultivo e non vincolante, non possono avere il cappello della politica e delle amministrazioni, cioè a governare la vita delle consulte ci sia l'assessore provinciale o l'assessore regionale o il ministro, come lo è nel caso della consulta nazionale presso il CNEL, il ministro o chi per lui delle infrastrutture e dei trasporti. Ma le consulte devono essere lasciate in mano alle dinamiche delle organizzazioni sociali, che possono essere libere di fare proposte che magari all'assessore provinciale, a quello regionale e al ministro dei trasporti non gli sta bene, ma che magari fornendo delle proposte tecnico-politico-sociali possono dare un contributo alle province, alle regioni e al ministero per far fare un passo in avanti alle politiche di sicurezza stradale. Lei, mi scusi, ma è un temerario. Con la sua fondazione fa le pulci all'amministrazione nazionale, fa le pulci all'amministrazione regionale, fa le pulci all'amministrazione provinciale, proponete gratuitamente dei disegni di legge, chiedete un esempio di democrazia partecipata a chi ci governa. Voi sapete che siamo in Italia, sì, che non è facile fare una cosa di questo genere. Se voi come associazione riusciste a fare una cosa di questo genere sarebbe sicuramente l'innovazione che tanti cittadini aspettano, sarebbe la concessione di chi è oligarca in questa nazione di quella che noi abbiamo sempre chiamato democrazia. Sì, non c'è dubbio. Noi siamo in un momento storico particolare, ovviamente. Vediamo la situazione economico-finanziaria in Italia e nel mondo. Io quello che riesco ad osservare è che ovviamente i mercati e i governi, i singoli governi nazionali, ma anche la BCE fanno pagare la crisi sempre ai soliti noti. Paga lei che ha una busta paga, paga un piccolo imprenditore che ha a che fare con la finanza e col credito di tutti i giorni e col mercato in crisi. Non pagano mai quelli che storicamente hanno sempre basso le tasse, che non le hanno mai pagate oppure che esportano capitale. Io mi chiedo come mai 300 miliardi nell'ultimo mese sono usciti dall'Italia? Com'è possibile un Paese, uno Stato, possa far uscire 300 miliardi senza accorgersi? Allora il problema è proprio questo. Ma guardi che nella sicurezza stranale ci sono le stesse dinamiche. Le stesse dinamiche. E cioè, quei soldi che vengono mossi dal sistema della mobilità, è un flusso di danaro che va ad alimentare sistemi di potere a livello locale e a livello nazionale di una miriode di studi di consulenza. Perché non si organizzano e non si fanno crescere quelle professionalità che ci sono? Facciamo un esempio. Nella regione Umbria, nelle due amministrazioni provinciali e nelle due amministrazioni comunali Umbria, ci saranno funzionari dirigenti capaci, che hanno studiato, che hanno laureato, che si sono laureati. Perché non si formano e non si fanno crescere queste figure che possono dare un contributo serio alle amministrazioni dalle quali sono pagati? E se invece si cercano consulenti esterni che per una guerra tra bande che ci sono a livello nazionale e locale, tra gruppi di consulenti, finiscono per occupare mano militari le amministrazioni, fornire le loro consulenze, andarsene via e lasciare così come hanno trovato le amministrazioni locali. Io passo spesso da un comune della provincia di Perugia, Città della Pieve, in una frazione di Città della Pieve, Pobandino, esiste una doppia rotatoria. Io vi invito, se passate con una telecamera lì e nella vicina chiusi anche, magari a 500 metri, a fare una zoomata su quelle rotatorie. Ora io mi chiedo, rotatorie che sono un pericolo pubblico, non hanno, da un punto di vista tecnico, noi facciamo le pucci da un punto di vista tecnico, dico che i tecnici dovrebbero fare i tecnici, i politici dovrebbero governare la loro comunità, ma i tecnici dovrebbero conoscere il sistema tecnico per realizzare una rotatoria. Prendo ad esempio le rotatorie perché sono un caso abnorme in tutto il paese. Allora, significa che le amministrazioni, gli uffici tecnici, non vengono forniti da un ausilio tecnico per la loro formazione e non sono in grado poi di fare scelte ponderate per mettere in sicurezza un'infrastruttura. Questa è un problema diffuso, purtroppo anche nella vostra regione. Basta farla, insomma, no? Poi dopo come funzionano, funzionano, i problemi che hanno... E farla magari nel modo più strano, per strabiliare l'opinione pubblica che i vi passa su quelle infrastrutture. Ci abbiamo la rotonda, i nomi sono illustri, i nomi sono famosi. Marco, se può sistemare il microfono al dottor Guccione che vedo che sta piegandosi... ecco, grazie, ha fatto da solo. Vorrei tornare al 1991. Mi chiamano per fare una settimana in Germania per un campionato del mondo di enduro. Siamo a Mosbac, nel pieno della foresta nera. E la mattina delle operazioni preliminari, prima che tutti possano partire, arrivano due gendarmi e dicono, signori, domani mattina per tutta la settimana noi piazzeremo delle telecamere per il controllo della velocità del traffico dove voi arriverete, passerete per poter tagliare il traguardo. Siccome non è una strada che vi può permettere di andare estremamente forte, il limite è posto a 60 km orari e chi supera quel limite di 60 km orari verrà fotografato e multato. Ovviamente tutti pensavano che fosse la solita italianata, no? Vi proponiamo lacrime e sangue e poi in realtà lacrime e sangue non lo è mai, no? Un po' come dire centinaia di pattuglie nel ponte di Ferragosto sono operative per garantire la sicurezza stradale. E lì due soli gendarmi fecero strage di motorette che passavano a 60 km orari. E quello che mi stupì è che questi due gendarmi, dopo aver fatto le fotografie la mattina, il giorno dopo si presentarono con le fotografie di ogni singolo concorrente che aveva il numero fotografato davanti, che aveva fatto l'infrazione e volevano il pagamento immediato della contravvenzione, altrimenti sequestravano il mezzo. Ora, volere è potere o potere è volere, dottor Guccione? Beh, l'uno e l'altro, ma soprattutto il secondo dovrebbe essere. E cioè che chi ha il potere deve far rispettare le leggi. Esatto. Deve farlo rispettare nel caso del pagamento delle tasse e dell'IVA che viene evasa e deve farlo anche sulla strada, cioè facendo rispettare il codice della strada. Perché è inutile che chiamano le organizzazioni economiche sociali che vanno lì pagandosi il treno, il taxi, senza rimettere rimborsi al Ministero dell'Interno, vanno lì e contribuiscono con la loro competenza a modificare un articolo, il 191 del codice, insieme ad altri, e poi quest'articolo viene disatteso e i pedoni uccisi sulla strada sono in forte aumento anche dal 2010. Perché ci sono delle corresponsabilità e su questo noi faremo anche un'iniziativa sul piano legale nei confronti del Ministero dell'Interno e delle amministrazioni locali che hanno le competenze per il controllo della messa in sicurezza e attraversamenti pedonali. Ma lei ha citato la Germania. Io qualche anno fa era, mi ricordo il cognome di un assessore regionale qui Umbro, che non credo ci sia più, si chiama Mascio, si chiamava Mascio, era ai trasporti. Io avevo, come fondazione avevamo realizzato un parco dell'educazione stradale per bambini, una cosa molto bella che le farò avere come copia. Un progetto gratuito, noi abbiamo fatto fare da tecnici di nostra fiducia che non hanno voluto soldi e quindi un progetto che abbiamo fatto gratis e lo abbiamo dato in mano a questo assessore. Fai quello che in Germania hanno fatto in 600 centri, dico 600 centri, che servono una popolazione di media di 60 mila abitanti, parchi dell'educazione stradale per bambini da 6 a 12 anni che in una strada inescalano a 2, così realizzata come vedono loro la strada, con macchinine elettriche che non superano i 10 chilometri rari come prevede l'articolo 175 del codice. Si alternano i diversi ruoli, fanno pedoni, ciclista, motociclista, ma anche il vigile urbano, cioè sanzionano i loro piccoli coetanei che non rispettano il codice dopo aver fatto aula, insieme ai loro insegnanti. A noi ci sembrava un'idea copiata, ma utile, ma utile per questo paese. Questo assessore, come del resto quello che poi è succeduto, che forse nemmeno ha visto questa pratica, che dovrebbe esserci traccia nell'assessorato di questa regione, ha pensato di essere cosa utile. Ma lei sa perché credo non è stata utile? Perché i costi che noi abbiamo indicato di quella infrastruttura erano troppo bassi. Perché non prevedevano agi magari per una rete che è collegata al sistema di potere dei partiti locali e nazionali. Dovreste chiamare qualcuno delle cooperative a darvi una mano, quindi voglio dire... E che invece venivano realizzati grazie alle imprese private che gratuitamente avrebbero fatto i lavori degli asfalti per noi e quindi anche per la struttura pubblica, per l'amministrazione locale. E non c'è stato verso di farlo. Allora noi pensiamo che su questo, con la nostra rete legale che oggi presentiamo qui in Umbria e che poi nel mese di settembre presentiamo in tutte e venti le regioni, oltre 300 avvocati, penalisti, civilisti, amministrativisti, che lavorano per noi in modo gratuito e che praticheranno delle tariffe molto vantaggiosi alle vittime perché sono dei cittadini molto particolari, le vittime non possono essere taglieggiati e non possano essere praticate tariffe elevate dal nostro punto di vista, ma con questo gruppo di legali, a Roma abbiamo un ufficio centrale di 30 giovani agguerriti legali, avvocati, noi faremo non solo battaglie di difesa dei diritti delle vittime, ci costituiremo parte civile negli incidenti più gravi, ma avvieremo una serie di procedure e le dirò brevemente le tre cose che proporremo oggi, le dirò in anticipo rispetto alla conferenza stampa, avvieremo anche delle azioni legali nei confronti dell'amministrazione locale, non perché siamo contro le istituzioni, ma perché siamo partigiani delle istituzioni, noi ci rivolgeremo nei confronti dei tecnici, dei funzionari e dei dirigenti che non fanno il loro dovere, ma anche degli amministratori locali che disattendono precisi obblighi di legge, a tutela dell'interesse della pubblica amministrazione, perché quando la pubblica amministrazione paga, pago io, paga lei con le tasse che paga e non è giusto che un amministratore che non sa fare il suo dovere o che funzionari e dirigenti, ce ne sono tantissime persone brave, ma quei pochi che ci sono, che fanno un danno all'amministrazione e noi faremo causa a queste persone a tutela anche dell'interesse dell'amministrazione che viene lesa. Una sorta di diaconi dunque dell'amministrazione pubblica, di essere dei servitori che con comunque sono servitori che ricordano quali sono i doveri di chi è servito. Dei cittadini responsabili, perché le voglio fare l'esempio delle multe, noi abbiamo presentato attraverso un accesso agli atti a 15 città metropolitane e voglio dare in anticipo una notizia che ho avuto ieri dall'assessore Lubatti di Torino che mi ha chiamato, che è molto bravo e che si vede che quando c'è una chiamata le amministrazioni più serie, più avanzate rispondono. E cioè i proventi contravvenziali, attivo 308 dovrebbero essere rendi contati al Ministero dell'Infrazione e dell'Asporti. Perugia quanto incassa? Boh. Quanto reimpiega? Aribò. Non è corretto. C'è un obbligo di legge che è disatteso da un comune, da una provincia e dallo stesso Stato che non chiede niente. E dallo stesso Stato che fa orecchio da mercante e dovrebbe sanzionarli. Noi oggi, già domani, i nostri legali avvieranno una procedura d'accesso agli atti agli enti locali umbri, ai comuni più grossi ovviamente. Perugia, Terni, Foligno, Assisi, Castiglion del Lago, Città di Castello. Sono 7-8 i comuni più grossi a cui noi chiederemo già da domani, con un accesso agli atti, conto di quanti proventi contravvenzionali hanno introditato e come sono stati riempiegati, così come prevede l'articolo 208 del Codice della Strada. La prima questione. Ma non è una proposta belligerante. Loro avrebbero dovuto già rendere conto ai cittadini. Noi non avremmo dovuto fare un accesso agli atti che per noi è un costo. È un costo vivo. Ma non lo facciamo proprio a difesa e a tutela dell'onorabilità della pubblica amministrazione che oggi è amministrata da lei, domani sarà amministrata da me, però la pubblica amministrazione resta sempre la casa comune di tutti, anche di quelli che non vanno a votare. Anche di quelli che non la rispettano perché non hanno dato voto. Anche di quelli che non la rispettano. Questa è la prima questione. La seconda è che chiederemo alla Corte dei Conti, alla sezione regionale della Corte dei Conti Umbra, di fare una verifica sull'ultimo quinquennio nel settore della sicurezza stradale, in particolare di come sono stati riempiegati i fondi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, che per lo più sono fondi utilizzati dagli enti locali Umbri. Vorremmo sapere quanti ne sono stati utilizzati, che cosa è stato fatto e verificare in effetti l'efficacia, così come prevede la legge, dei fondi reimpiegati sul territorio Umbro. Perché se i morti aumentano, e nell'ultimo biennio 2009-2010, ancora non sappiamo i dati del 2011, che li sapremo a novembre, purtroppo un anno dopo le morti che ci sono già stati, però nell'ultimo biennio l'Umbria è in condotendenza rispetto alla media nazionale, cioè aumenta nel 2010. Si muore di più. È aumentato di poco, però è un segnale molto preoccupante. Quando invece di continuare a diminuire, aumenta di un pochino, noi ci preoccupiamo perché significa che è un sistema che non è governato. che non è governato. Ieri diminuisce, oggi aumenta, domani forse diminuisce. Non c'è governo di questo fenomeno. L'altra questione è proprio questa. Io non sono contrario, noi non siamo contrari a utilizzare consulenze esterne agli enti locali. Intanto cerchiamo di utilizzare se ci sono competenze sociali gratuite, anziché private costose. In secondo luogo, forse potrebbe essere utile, come faremmo noi nelle nostre famiglie, no? Invece di prendere dall'esterno, cerchiamo di darci da far noi, nelle nostre famiglie, se abbiamo due figlioli, moglie e marito, utilizziamo queste quattro risorse che abbiamo per mettere a posto le cose di casa. Poi se non ci arriviamo, prendiamo un fabbro, un idraulico, un elettricista e utilizziamo le consulenze esterne. Perché impiegati, funzionari e dirigenti che ci sono, e anche bravi, perché io ne ho conosciuti anche bravi qui in Umbria, di funzionari e dirigenti, la pubblica amministrazione non investa su queste risorse e fa crescere queste risorse interne perché si usi meno la consulenza esterna che ha un costo maggiore. Allora, perché non si istituiscono uffici alla Regione e alle due città maggiori Umbre, uffici dedicate alla sicurezza stradale in grado di coordinare tutte quelle competenze di assessorati diversi? Prendiamo la Regione, c'ha competenze, l'assessorato ai trasporti, quella alla mobilità, alla sicurezza stradale, all'istruzione e vattela a pesca. Ognuno fa la sua piccola parte senza parlare con collega di giunta, perché magari di un altro partito, seppur nella stessa coalizione, e cerca di guardare i propri interessi di assessorato e non avere una visione. Ecco quello che manca. Mancano i visionari, mancano in Italia e mancano nelle amministrazioni locali. Quelli che non guardano all'elezione di dopo domani mattina o di sei mesi, ma sappiano costruire una visione di società locale o nazionale da qui ai prossimi 20 anni. Enrico Berlinguer, in una famosa intervista di Eugenio Scalfari che io ho riletto recentemente, dai quali vengono anche molti di questi amministratori umbri, se lei la rilegge a distanza di 30 anni, nell'81 Scalfari intervistò quel dirigente politico eccezionale, lui tracciava una visione, se lei la legge, dice ma questa l'ha scritta ieri, Berlinguer è morto da molti anni, cioè aveva capacità di visione prospettica, sapeva indicare al paese dove andare al di là delle contingenze elettorali immediate. Questo devono fare loro, anche qui in Umbria, individuare da qui ai prossimi 20 anni che città vogliamo realizzare a Perugia, a Terni, a Foligno, anche nel piccolo. Che cosa vogliamo fare? Perché le dinamiche sull'incidentalità si giocano nelle città nei prossimi decenni. Il piano mondiale 2011-2020 che abbiamo approvato a Washington a marzo dell'anno passato e presentato in tutto il mondo a maggio, da questa indicazione, cinque pilastri, noi dobbiamo coniugarlo in Perugino, se lei mi permette, in Ternano, in Senese, in Palermitano, perché quei cinque punti non sono punti astratti, sono punti di visione, che dicono a lei Perugino, a me Calabrese, a distanza di centinaia di chilometri, cosa fare di quei cinque punti nella sua città e nella mia città, per dimezzare i morti, così come ci chiede ancora l'ONU e come ci chiede l'Unione Europea. Ma per fare questo, io sono molto grato a lei e alla sua televisione di dare spazio a queste tematiche molto moderne, molto innovative, se questi amministratori locali si fanno aiutare da queste organizzazioni civili che sono impegnate in Italia, in Europa e nel mondo per creare una prospettiva di avere zero morti, visione zero, come dicono i nord europei, che non è una visione velleitaria, deve essere un imperativo categorico per chi governa la cosa pubblica, oltre che per noi cittadini, un imperativo categorico perché moralmente è uno smacco per chi amministra la cosa pubblica avere, come nel caso dell'Umbria, ancora 79 morti nel 2010 e 4.025 feriti, di cui quasi 900 invalidi gradi permanenti. Io la ringrazio, le do questo di appoggio, di poterla ospitare spesso quando voi vi sentirete nella forza, nella volontà di venire a raccontare quello che voi pensate, quello di cui avete bisogno e di darvi la voce che vi spetta. È un obiettivo comune quello di arrivare a quella visione utopistica, io la voglio ancora chiamare utopistica perché a volte le utopie coincidono con i sogni, ma spesso e volentieri bisogna pensare che i sogni sono possibili, altrimenti il paradiso, caro Guccione, non servirebbe a nulla. E allora spero che questi sogni possano diventare, attraverso il nostro aiuto, attraverso l'aiuto di tante altre televisioni che troverete in giro per l'Italia, un sogno che possa essere realizzabile. Allora potremmo dire magari ai nostri figli che se la vita è migliore sulla strada per i pedoni, per coloro che guidano e per coloro che vi viaggiano, il merito è stato un po' di tutti. Grazie e auguri per il suo lavoro, Giuseppe Cuccio. Grazie a lei.